Erika ci guarda ragazzi in un nuovissimo video di Brawl Stars Come vedete siamo sempre stessi C'è la mia ragazza Ciao C'è il Miss Click Che non può rispondere perché non c'è Ciao Pure a lui Ma ha scritto ciao prima 13 minuti fa Quindi ha salutato pure lui Quindi partiamo subito col video Però prima andrò ad aprire Anzi non la apro ora la mega cassa Andremo ad aprire questo paul Gigante Enorme Io lo chiamo sempre gigante Shelly Brock E' l'assoluto nulla Perfetto Un biglietto Apriamo qualche paura di questo Magari Magari troviamo un leggendario Vi ricordo che io posso trovare solo le epiche Perché Epiche leggendarie Perché le ho già sbloccate tutti Quindi Ah sarebbe bello Apriamo Continuiamo Brock Bull Leggebbe Ok Oltre due Poi ci andiamo a fare qualche partita E ogni stacco di partita ne apro qualcuno Quindi Apriamo l'ultimo dai Giusto perché non sto trovando l'assoluto nulla E continuiamo a non trovare nulla E in ogni caso ragazzi Facciamo un'altra raffagetta Non le apri tutte Si è confuso No Ti è confuso No no non ce l'ho confuso L'ho già detto Si tu che non mi ascoltavi Perché si è messa a parlare Si stavo scrivendo Buon salve Siamo pro troppo Vedi Lo sappiamo pure noi Siamo troppo forti Esatto Dovevi entrare nel nostro club Entrate Guardate Guardate qui Il nostro club Vi ricordo sempre Perché l'ho fatto vedere Forse sono in un video in due Oh 68.000 trofei Troppo forti Ci chiamiamo sempre i pippini E il tag del club è QY89 0 C Comunque ho detto che semplicemente Le aprirò Ogni partita vinta Apriamo 5 bauli E quello grande E a fine video Così arrivate a fine video Vi farò vedere Il baule Quello Incredibile Magari non schippate Non fate i cattivi Esatto Non schippate il video E se siete dei cavalli Se lo fate Esatto Ah Faccio una partita Sempre con bombardina E poi cambio Giusto per variare Stavo buttando tutto il microfono A terra Ma a noi va bene così Sei carico? No Come no Sì dai C'è un carico Andiamo Mamma Io già sono con 1.2 Altro che carico Madonna Ma mi hanno colpito come poi Non l'ho capito Eh c'è Dino e mittemi No miss sta morendo No miss Miss Anche tu Stai morendo Vabbè ma io non ho niente Lui l'aveva No ok Non so ancora per quanto mai vivo Ok non è proprio vivo Non è proprio più vivo Ci stanno facendo Ma che ci fa questo qua Aiutatemi Io ho preso 3 gemme Ok ma Oddio no 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 Mi sa che non l'hai presa più con le 3 gemme No sono sempre avvissuta Eh perché questi qua ci stanno facendo tutti questi danni Perché c'è dinamica Senti Facciamo così Attenta che Bene Bravo Grazie Facciamo così Facciamo No non facciamo più così No Dinamica inutile Se No Io odio Dinamica Cioè lo amo quando lo uso io Ma lo odio quando lo usano gli altri Ma dovremmo circondare Oh ho ucciso uno con 7 gemme Nel dici lui Salvalo Aiutalo Non lo faremo dire Campo Nel dici lui Nel dici lui A posto Vai via Defenditi Aiutiamolo Uccidiamo Dinamite Ti aiuto miss Se muore e Dinamite abbiamo vinto Se muore e Dinamite abbiamo vinto Ok 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 Abbiamo vinto Ho aiutato miss Ti ho aiutato Ricordalo Ragazzi anche se state perdendo Se entrate nel mio club Vincete Funziona così Dovete entrare nel mio club Ok Quindi ci cambiamo il personaggio Apriamo pure Come vi ho detto prima 5 forzieri Vai Brock Bo E basta Bo Non c'ho con niente Bo Poi Monete Bull E Beryl E basta Ne apriamo altri Re 30 monete Nita Per me Nita va benissimo E Beryl Ma dammene un po' di più 4 e 4 Ne apriamo altri 2 16 monete Bombardino E Colt Me ne manca uno per aumentare Colt Andiamo 70 monete Colt Così lo aumento di grado Anche se non ho le monete Ed è il primo E basta Credo che ho finito Si ho finito Nel caso come vi ho detto Due è arrivato a grado 15 Io sono sempre credo 14 Anch'io 14 Esatto Comunque vi faccio vedere Che ce li ho tutti Grado 14 15 15 14 Addirittura Nita ce l'ho al 17 Troppo forte La sto pure per mandarla al 18 Quindi andiamo a usare Nita Giusto così Davo andiamo al 18 No? Si Dai Adesso cambio il personaggio Ci andiamo a mettere a Brock E facciamo subito un'altra partita Miss deve staccare Quindi ci andiamo a fare Ora una duo Ciao Miss Ciao Miss Li ho cambiato Diceva le saline E io Brock Come avete visto prima Quindi andiamo subito Vai A vincere Si spera Si spera Io faccio questa Io l'ho fatta C'è un brocco Un brocco Come si dice Ma lo so Ma prendila Non me la prenderò Penso che ti abbiano visto Si si credo pure io Guarda quanto io ho tolto 1.7 Ok l'ho ucciso uno Me ne vado via Perché potrebbe essere un problema Credo che abbiamo eliminato una squadra Si siamo già tre Oh attento No Cavolo Vai via No 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 Ah vabbè Vai via Non è importante L'importante è sopravvivere Esatto Non perdere trofei Ricordate che l'importante è sempre sopravvivere Comunque siamo terzi Quindi trofei Ci seguono Eh si Ci seguono Eh però non me li vorrei fare contro Lasciali in pace Lasciavoli in pace Beh si ne hanno 7 Ne hanno 9 ora Io faccio la tecnica del camper Eh io faccio la tecnica della morte Mi vogliono uccidere Non mi vogliono bene loro No ti vogliono dare un bacino Non ne voglio bacini da voi Andate via Oh l'ho preso Non voglio bacini Via Mi devo spostare Di qua c'è un altro team Attenta Vabbè Non so dove ma c'è Oh è morto di nuovo nel primo È due ore che muore lo stesso Il primo Ah eccolo Lui è l'altro team Io sono morto credo Iuto Scendi No No Ma perché non è ammazzata l'altro team Ma siamo così antipatici Uffa Uffi Facciamo l'ultima partita E stacchiamo poi il video Il nostro obiettivo è arrivare ai secondi Il nostro obiettivo è vincere Possibilmente Se la connessione ce lo permette Già Ok Apriamo qui Apriamo lì Vai prendila tu Prendila tu Io sto vedendo se c'è altro Grazie Non l'ho lasciata Sei spaventato Ma qui di chi è Io avevo paura di lui in realtà Aiuto Non mi vedono Non mi vedono Non mi vedono No No Non mi vedono Sta alla camera Non mi si muore Ok Li ho uccisi Li ho uccisi Aiuto Colt Ti aiuto io Aiuto Colt Se avessi la mine ti aiuterei Aiuto Colt Attenta No Ti aiuto così L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Stai attento Certo Cavolo No Vabbè io non ho parole Ma che pasqua Oh là c'è un bull che Non so perché Ci vuole spostare Attenta le mine Non ti mettere in cui c'è squiglia Ci sono le mine Te lo ricordo Con piacere Attenta a bull che ci vuole fare i buchi Io gli faccio io i buchi Non tanto però Questi c'è sfugli e non c'è andare ti ricordo L'ho capito Te lo ricordo perché tu non hai un'ottima memoria Uccidi questo No 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 Oh Meno male Mi ha lasciato Mi ha lasciato No In ogni caso Siamo arrivati i terzi di nuovo Zero Io più uno Quindi Andiamo ad aprire i bauli E basta Primo baule Trenta monete Shelly E boh Come boh? Non lo so boh Andiamo per l'altro forziere Monete Barry E free Semplice Semplice Li troveremo mai Delle cose succulente Di brawler buoni? Secondo me no Però ci proviamo Doppi oggettoni Già 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 questo Fatto Se volete me ne potete dare altri Doppi oggettoni Quindi non li rifiuderò mai Vabbè Niente ancora Andiamo con Questi sei Dai qua c'è il brawler Qua dentro c'è il brawler Ma dove? Qua dentro Proprio qua? Non lo vedi? Vabbè c'era il brawler dentro la carta che avevo già trovato Esatto Ah ok Ok Barry Piper E la posso mandare al 2 credo Che non usi mai Vabbè ma Piper Non è che non lo uso mai L'ho già mandata al grado 13-14 E non la uso più Colt E bitti Altri 3 Fatemi trovare qualcosa di buono Piper Di nuovo Penny E niente Andiamo 14 monete Bombardino E qui Non c'è il brawler E le gemme 5 gemme Vanno bellissime Ok Monete Beryl Piper Ok Andiamo con l'ultimo baule Questo E poi A fine Di quello Quello più Buon Subbulente Perché quello 65 monete Piper Più 37 Tutte di Piper Me ne andate Perché vuole il gioco Che la usi Che non la usi mai Piper Piper Perché Piper La mandiamo a livello 2 E la mandiamo a livello 2 La mandiamo a livello 3 E la Allora Cerca il gruppo E la mandiamo a livello 3 Ok Ma tanto non la uso Già che la do 13 Perché la devo usare Non c'è il motivo Ah E adesso Ragazzi Siamo arrivati al momento Incredibile Dove troveremo Finalmente La mia prima Leggendaria Oppure non è vero Probabilmente Non troverò Assoluto Nulla E se non troverò Come Che si trova Buongiornissima di nuovo Buongiorno a te Ciao Si trovano sempre carte Le solite cose che si trovano là Però se ne trovano di più Quindi Partiamo Vai Clicchi Aprimi Sì Io lo ti sto aprendendo Con calma Tutta questa fretta Ti va bene Non lo capisco Già Cioè Che pretendi Cioè Questa fe 224 monete E sono già tante Io già sono La regola Che se c'è scritto Qua 6 Trovi un brawler Se c'è scritto 5 Probabilmente Non lo trovi Quindi Che fortuna Che ho avuto Beryl Non troverò Un brawler Pocho Stecca E sto Oh 53 di Nita Mi va bene E ora Troverò tantissime carte Di uno Che probabilmente Non uso Perché in poche parole Vanno sempre a commentare Cioè Se io non ho trovato 53 di Nita Il prossimo Sono almeno Più di 53 Oh magari un brawler No 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 Comunque Vai di 58 Di Penny Che come Ben sapete A me fa schifo Al Questo Questo Biglietti degli avanti E 6 gemme Vorremmo prendere pure questa cassa Ma mi mancano le gemme Sarebbe stato bello Avere queste 13 gemme in più No? Ma non le abbiamo Shoppiamo 3 euro Oh Che cosa? Stavo scherzando Ci avevo detto la parola shoppare Già il gemme Stavo andando Shoppiamo Ma che cosa? Ma poi via In ogni caso Spero tantissimo Che il video di oggi Vi sia piaciuto Noi ci vedremo Ad un prossimo video Lei adesso Vi deve salutare Quindi saluto Ciao Così diretto Non vi dire nient'altro Mi voglio bene Convenzate Ci vediamo domani Con una ricetta Ah giusto Mi ricordo sempre Un giorno Un ricetta Non l'ho mai detto Lo dico dopo 7 video Ma è appunto Un ricetta Un proprio Una ricetta Una proprio Una ricetta Una proprio Una ricetta Una proprio Quindi Noi ci vedremo Ad un prossimo video E niente Ciao Ciao Ciao